...singoli, associazioni, a partire dall'artista del Bagnoli, titolati per le altre situazioni ambientaliste, il WWF, diversi partiti, gruppi, cittadini, insomma, questa è una battaglia che in qualche maniera si pone come una sorta di schieramento trasversale. In effetti, se ci pensiamo, è qualcosa di immediato. Napoli, come abbiamo spesso nel volantino, è una città di mare, però il prodotto a due cittadini la possibilità di influire attivamente di questa risorsa. Al massimo ci si può andare a fare una passeggiata via Caraccio e di questi tempi neanche più, in qualche maniera, perché con la militarizzazione del mare si definisce anche questa, e guardarsi il mare, ma il fatto abbastanza naturale di scendere un giorno e in mezz'ora di stare sul litorale, farsi un bagno due ore e tornarsi a casa per dire no, cioè andare a mare diventa una cosa sia lunga, sia faticosa, sia onerosa, perché anche quei pochi posti dove si può fare, penso alle rocce verdi, all'Idoenna o a qualche rara zona tra così come l'Argentina, in cui è dato di accedere al mare, si tratta di una costa che è stata privatizzata, di fatto, se non di diritto, in alcuni casi, quindi ai cittadini resta ben poco. Ovviamente si tratta in primo luogo della mancanza di una risorsa fondamentale per una città che ha i più bassi standard di diversi spazi pubblici del nostro paese, una risorsa che contribuisce all'identità del luogo e che con un'adeguata valorizzazione potrebbe aumentare la qualità della vita dei cittadini, se non utilizzata in maniera commerciale, sebbene tutelata, sviluppata dal progetto pubblico complessivo. Ma al tempo stesso, se vogliamo essere realisti, perché di questi tempi il realismo ha una sua forza, e anche, non mi piace il termine, il miglior biglietto da visita, la ciliegina e tutte queste cose che si troveranno giornalisticamente, ma sicuramente per le immagini di Napoli la possibilità di avere una grande strage pubblica come ce ne sono in tutte le grandi città di mare, europee, italiane, europee nel mondo, sarebbe veramente il miglior biglietto da visita, e quindi sarebbe una carta su cui puntare in primo luogo per fare pubblicare ai cittadini i diritti e la possibilità di averneggio, in secondo luogo per promuovere anche come risorsa economica, se si parla tanto di turismo, l'immagine della città, e non quindi utilizzarla come viene adesso, per i pochi tratti che è possibile, in maniera frammentata, in maniera anche molto misera, e tutto il resto. Poi ci saranno gli interventi specifici, sia per quanto riguarda l'utilizzo attuale del litorale napoletano, sia per quanto riguarda gli aspetti giuridico-organizzativi della proposta di referendum, quindi di ordine di offensibilità del percorso che proponiamo. Però, ecco, come abbiamo detto il volantino, non c'è molto da utilizzare, se uno si guarda i viti propri di costa di Napoli, soltanto quei propri propri di Ennezzo che stanno a Bagnoli possono essere utilizzati per ridare ai napoletani questa grande risorsa che è una spiaggia pubblica, e soprattutto vogliamo sottolineare una spiaggia pubblica gratuita, perché proprio Bagnoli autorizza a pensare che fosse questa identificazione tra il pubblico e il più gratuito non è passato troppo nella concezione degli amministratori, in quanto spesso si guarda la rispaggia pubblica anche quando viene data in concessione ai privati che fanno pagare per entrare sulla spiaggia, fanno pagare per i servizi, anche se non li vuole, e tutto il resto. Allora, quello a cui miriamo è restituire integralmente da Nisida al confine comunale con Pozzuoli, senza neanche un centimetro in meno, restituire integralmente, quel luogo ha i napoletani gratuitamente come accesso, come possibilità di fermarsi, non solo sui 5 metri del Bagnaciuga, ma anche fino alla strada, restituire integralmente. Questa è una proposta che non si contratta, è una proposta su cui non andiamo a mediazioni. Chi aderisce alla campagna deve sapere che questo è il massimo e il minimo, e anche i quesiti, come saranno formulati, tenderanno nella direzione di essere il più possibile stringenti su questo, e quindi nel non consentire fagocitazioni o modifiche compromissorie da parte poi dell'ordine comunale che dovrà recepirlo. questo perché, mentre si pensa a attribuire un servizio a quel 2% di napoletani, guardate che ce lo siamo un po' calcolato, è una percentuale meno arbitraria di quanto sembri, potrà essere forse il 3%, insomma, l'ordine di numeri è quello, più o meno, bisogna pensare un po' a dare forza a quel 98% che non ha forza, perché se Ferrara può mettere in occasione del Nautic Sud i suoi manifesti correndi con delle proposte pezzottate di porti per tutto l'arco litorale napoletano, evidentemente i cittadini che invece hanno interessa di avere una spiaggia pubblica non mettono i manifesti perché non hanno la possibilità, hanno meno capacità di fare lobbying, dicendo questo invece è una grande spiaggia pubblica che è ispirata, non voglio dire a Rio de Janeiro, ma più semplicemente si potrebbero prendere fotografie di Trieste, se vogliamo essere un pochino più internazionali, della stessa Barcellona o di Marsiglia, insomma questi sono i nostri desiderati. Allora noi dobbiamo far emergere in maniera netta quegli oltre 900.000 napoletani che non hanno una barca e potrebbero andare a mare senza farsi troppi problemi, senza dover pagare troppo per fare una cosa abbastanza naturale. E quindi restituire quei due chilometri e mezzo, considerando che il Comune parla di 100 metri di spessore medio per quanto riguarda il recupero della spiaggia di Bagnoli, significa restituire alla città di 150.000 metri quadri, cioè una spiaggia per 50.000 persone con 5 metri quadri a testa, che stanno pure abbastanza stipate insomma. Il che significa che stiamo pareggiando i conti tra i 5.000 posti barca che vogliono mettere sul litorale napoletano è un ventesimo della domanda esistente, con le 50.000 persone che sono un ventesimo della domanda esistente non di posti barca ma di spiaggia, che esiste sul litorale napoletano. Anche per questo non è possibile trattare neanche un centino di spiaggia da Nisida fino al confine di Bagnoli Suoni. Il percorso che stiamo... quali sono gli ostacoli? Poi vi dirà meglio Mauro parlando di quelle che sono le preoccupazioni attuali del litorale, perché è evidente che questo è uno degli elementi... ...e qualche cosa su cui noi non agiamo con il referendum. Ovviamente ci sono gruppi e associazioni, tra cui l'assiste di Bagnoli, di cui molti di noi fanno parte, che è uno, tra i promotori del referendum, che seguono tutta la vicenda di Bagnoli, quindi sanno che la questione della bonifica non soltanto delle aree a terra ma anche della costa e del mare, è un elemento fondamentale, la premessa, perché si possa parlare di restituzione a uso pubblico di quel litorale. Però evidentemente è una premessa importante. C'è un piano di bonifica che sta andando avanti, non è la sede per approfondire questo discorso, però vogliamo dire che quella famosa premessa avrebbe bisogno da parte dell'amministrazione di uno sforzo maggiore per porre in primo piano la ricerca delle risorse necessarie e attualmente mancante, nonostante le tante leggi dello Stato e gli accordi di programma che a livello progettuale hanno definito come ripudire il mare di Bagnoli e il restituzione del sububbio. Occorrebbe da parte dell'amministrazione uno sforzo deciso per ricordare che alcuni problemi che ostano al recupero del litorale dovrebbero essere affrontati in sede nazionale con un piglio abbastanza deciso, altrimenti non ne usciremo mai. In primo luogo la tanto declamata questione della colmata che diverse leggi dello Stato, nonché i strumenti urbanistici, prevenono debba andare via, per la quale sembrerebbe che come al solito spariscono i soldi, non ci siano soldi sufficienti e adesso abbiamo sentito anche che il presidente di Bagnoli Futura derogando dal suo ruolo promuove un approfondimento o un approfondimento a città della scienza per verificare se il caso minima di toccherla, sarebbe interessante che il presidente di Bagnoli Futura facesse un approfondimento su come recuperare il litorale perché, come dire, grossomodo rientra nelle sue competenze quanto la colmata, cioè niente. Però se poi potrebbe fare qualche cosa sarebbe interessante che lo facesse nell'interesse del 98% dei napoletani, non del 2%. Comunque sia, riteniamo che in qualche maniera il sindaco dovrebbe porre una vecchia questione. Chi ha messo la colmata lì? Il concessionario dell'epoca, cioè Liri, chi è che deve rimuovere la seconda norma di legge, direzze. Questa cosa non è mai stata fatta pisare in maniera debita nelle sedie adeguate. Per cui pensiamo che più che appunto fare qualche caso di lasciarle il dopo, sarebbe il caso invece di battere i punti sul tavolo con giusto risentimento perché da un secolo si faceva rispondendo i benefici dell'industria ma anche i contesti negativi che hanno portato a quartiere e quindi la comunità nazionale che ha tratto vantaggio dall'industria dovrebbe anche assumersi le sue responsabilità per fornire quelle che sono risorse economiche per rivolgere il problema. Alzo dato che dopo il quale possiamo parlare di recupero del territorale è evidente che la semplice recupero alla bagnazione del mare del territorale non basta nel senso che in questi anni anche con un territorale inquinato tutta una serie di soggetti si sono appropriati del territorale di Bagnoli con concessioni sfruttando l'acquiescenza anche delle autorità come le porte abusive, cose eccetera. Allora, noi dobbiamo cercare di incidere su quelli che sono i principali obiettivi concessioni demaniali su tutto il territorale affidati a un consorzio privato come una mappa di uno dei quesiti referendari sarà quello di richiedere immediatamente la revoca delle concessioni perché mai in cui non c'è il richiesto Casimiro Monti a suo tempo ma una grande concessione pubblica su tutti i due chilometri e mezzo editorale alle mani all'autorità portuale che vi lascia le concessioni. Primo problema. Secondo problema è il porto. Noi adesso abbiamo una situazione in cui siamo un po' nel limbo perché voi sapete che la vecchia soluzione del porto canale tanto distrattata giustamente tanto dedicata perché non rispettava sia la logica progettuale che in qualche maniera tutta una serie di vincoli è stata bocciata in una serie di conferenze di servizi e sostituita con un'altra soluzione di porto che non era più un porto canale che a sua volta è saltata perché non sono state rispettate le procedure di appunto. Quindi adesso in questo momento vuol dire il piano urbanistico attuativo che è lo strumento di dettaglio per Bagnoli prevede un porto però non lo prevede nel senso che il porto originale non va bene la nuova soluzione del porto è stata bocciata per cui siamo in un limbo sarebbe il caso di uscire da questo limbo e da parte del Consiglio Comunale e dell'Aggiunta prendere atto che quel porto viene a deteriorare la risorsa pubblica che sia nella variante che nel piano urbanistico attuativo è definita come il principale obiettivo del recupero del piano cioè il mare la spiaggia la guarniazione e quindi cassata definitivamente dagli strumenti urbanistici che lo prevedono. Questo sarà oggetto quindi di un'unità di un'unità se vi ringrazio tenete presente che sia la variante che il piano urbanistico attuativo poi potete dire meglio male prevedono che tutto quanto viene tutte quanti i volumi che stanno a valle di via Coroglio che è un litorale di Coroglio vengono demoliti che addirittura insomma nella variante si parlava di sistema dunale eccetera per domandizzazione quindi una completa restituzione a una continuità tra quello che è il litorale salvioso che è il parco il più grosso ostacolo secondo noi consiste in un accordo di programma che nel 1997 ha concesso a città della scienza di rimanere in loco con una parte dei suoi paviglioni strutturati a spese dello Stato perché appunto non si potevano spiegare gli investimenti statali quindi per 70 anni dobbiamo poterci i paviglioni in quel posto con quell'attività che oltre al grongrofismo insomma impedisce di fatto l'utilizzo della spiaggia quindi il terzo quesito referendario andrà nella direzione di chiedere una modifica dell'accordo di programma al sindaco di non fare una conferenza di servizi modificare l'accordo di programma e quindi ripetere questa soluzione oltre in generale a chiedere in atto tutti i torredimenti necessari in una formulazione anche appesa in uno dei pannelli nella parte posteriore della sala poi necessari a ripristinare appunto quei fattori di cui si diceva prima cioè la barneabilità e l'accessibilità che era tutta lì il percorso che proponiamo per questi consigli referendari è un po' articolato perché poi lo spiegherà meglio di certe il regolamento di questi strumenti prevede le incontruenze insomma abbiamo cercato di capire un po' meglio non si è mai fatto un referendum perché si è previsto dal 2006 si è mai fatto un referendum a Napoli quindi siamo in qualche maniera gli apipristi di questo strumento quindi dovremmo anche cercare si sta rivedendo proprio il regolamento anche con un'apertura per cui si prevedeva di rendere disponibile il voto anche ai sedicenni e ai cittadini e ai cittadini e ai cittadini comunitari e come sono altri strumenti più semplici e più che restano veramente a permettere ai cittadini di esprimersi e quindi noi abbiamo articolato la campagna in due fasi di cui una prevede un primo riposto ad una sorta di disegno di legge in servizio popolare nel senso che si accolgono 10.000 firme per portare nel Consiglio Comunale queste 3-4 proposte che stiamo definendo dopodiché in un secondo momento a seconda della risposta del Consiglio Comunale noi se definiamo bene queste proposte ci risponderanno la possibilità di noi sappiamo già si adirà alla richiesta di referendum potendo però utilizzare le stesse firme raccolte nel primo momento perché appunto con i problemi che si era meglio Giuseppe prima abbiamo un problema di montare insieme questi due di allargare il tempo per raccogliere le firme e di montare insieme queste due richieste prima appunto con la richiesta di atto deliberativo e poi con il referendum non è vero e proprio e quindi questo è grosso modo il consiglio nel dibattito e poi adesso andiamo a approfondire quello che chiediamo alle persone presenti oltre a farsi un'idea rispetto a quello che proponiamo di manifestare la propria eventuale disponibilità per prestitare che ritengono eventualmente i punti di forza e di potenza di questa proposta e poi di incominciare una prima fase organizzativa perché noi dovremmo utilizzare le prossime settimane di aprile abbiamo già un gruppo di lavoro che sto cercando di definire con accoggenza o con decisione di quesiti per darci una struttura un comitato che insasce territorialmente capire come si può riconunciare a sviluppare la fase informativa i banchetti e tutto il resto insomma quindi di essere nell'ambito degli interventi che si faranno dopo questi primi di esposizione della questione che abbiamo impostato noi ecco di essere anche fattivi nel dare la propria disponibilità per chi si tratterà di un grosso lavoro per chi si tratterà diciamo di accogliere qualcosa come 30.000 firme rotte all'interno della città di Napoli e non è poco quindi servirà da parte di tutti quanti non soltanto la buona volontà ma anche il fatto di potersi di funzionare come una struttura io limiterò il mio intervento anche perché molte delle cose che pensavo di dire le ha già anticipate Massimo soprattutto perché credo che sia importante dare spazio agli interventi poi dei convenuti perché questa è soprattutto una riunione organizzativa come ricordava Massimo nella sua introduzione Napoli è una grande città di mare la nostra città si affaccia per circa 20 chilometri sul Golfo di Napoli uno dei colpi che ci hanno insegnato uno dei colpi più belli del mondo senza voler discutere questa opzione ci troviamo purtroppo costretti a prendere atto del fatto che si tratta di un mare negato è difficile spiegare a un bambino che nasce in questa città che nasce in una grande città di mare e che purtroppo non c'è una spiaggia dove potessi andare a bagnare Napoli è una città di mare ma è anche una città antica per cui gli usi della linea di costa sono storicizzati consolidati molti dei quali quindi difficili se non impossibili da rimuovere se partiamo dall'area orientale San Giovanni a Teduccio è l'ultimo prendendo della città prima che termini il confine comunale con Napoli perché noi parliamo del confine comunale con Napoli perché questo referendum può essere agito solamente all'interno del confine comunale di Napoli a San Giovanni a Teduccio troviamo innanzitutto la grande la grande darsena che si sta costruendo il nuovo porto in costruzione che si va a aggiungere a quelli già esistenti di Porto Fiorito e poi la centrale termoelettrica ricordo a tutti che proprio nei prezzi della centrale termoelettrica qualche anno fa nel tentativo di portare i propri bambini a fare il bagno una donna ci ha rimesso la vita per tentare di salvare i bambini dal risucchio delle pompe di raffreddamento della centrale termoelettrica questa donna è morta e anche per evitare che succedano altre tragedie del genere chiamate a questa battaglia andando avanti dicevamo prima la centrale termoelettrica questa che vedete qui poi inizia la grande darsena portuale come vedete ci sono gli scogli qui il grande porto in costruzione portofiorito e poi lo scalomerci migliaia e migliaia di container sono movimentati all'interno dello scalomerci e tra l'altro si tratta di un'area come potete immaginare fortemente inquinata dall'uso del tempo quindi è sì un affaccio sul mare ma è anche un luogo dove è impossibile pensare di poter realizzare una spiaggia io ho detto un affaccio sul mare ma questo è abbastanza improprio perché per chi con la macchina per esempio arriva a Napoli nella zona orientale dall'autostrada il mare è completamente negato alla vista cioè l'unico pezzo dove si inizia a vedere il mare è proprio in corrispondenza di piazza municipio quindi abbiamo già saltato tutta la darsena portuale Molo San Vincenzo qui sono anche segnati tutte le tratte dello scalo passeggeri quindi le tratte con Casamicciola con Capri con Procida con Palermo con Catania con Ustria quindi fortemente anche inquinato dal passaggio delle navi poi arriviamo invece su quella che è via Caraccio anche prima della villa comunale questa è una zona fortemente malzana la realizzazione della villa comunale aveva appunto proprio come scopo quella di dare scopo ai napoletani con un'area per il luasile per il tempo libero per poter fruire di una faccia al mare ma anche qui si tratta di un'area abbastanza consolidata guardate solamente la pressione antropica e tutta l'urbanizzazione che c'è alle spalle si può far immaginare quanto sia praticamente impossibile fare qualcosa che sia oltre il passeggio cioè bagnarsi in questo mare per di più in vicinare in prossimità di un altro porto quello grande di Mergellina ampliato negli ultimi vent'anni e dello scalo degli aliscafi e si tratta di un'area che sicuramente può essere migliorata nella sua funzione pedonalizzata ma non è certo questa la spiaggia alla quale si può pensare e poi c'è la costa di Positbico costa alta innanzitutto molto frammentata quasi tutte private dire tutte private o privatizzate per cui diciamo ma non c'è una spiaggia dove potersi bagnare cosa resta? niente direbbe un turista che viene a Napoli ho preso in un albergo una delle mappe che viene distribuita ai turisti in questa mappa la città di Napoli va da Piazza Garibaldi appunto a Mergellina finisce via Caracciolo finisce la città come se ci fosse una parte proprio legata sia ai cittadini ma anche ai turisti della quale si continua a non parlare che invece corrisponde un po' a quella che noi abbiamo pensato in questi mesi in cui abbiamo iniziato a lavorare possa essere davvero noi diciamo abbiamo scritto lì la prima grande spiaggia pubblica di Napoli in realtà si tratta anche secondo me dell'ultima spiaggia cioè l'ultima opzione politica che ha questa città come società per potersi mobilitare e richiedere di realizzare finalmente una grande spiaggia pubblica a Napoli si tratta di un arco di costa molto ampio due chilometri e mezzo e quindi noi abbiamo scritto da Nisida fino alla pietra dove finisce il confine territoriale gli interventi dopo sto per finire dove finisce il confine territoriale di Napoli è l'unico arco di costa dove è possibile realizzare ancora oggi una spiaggia in realtà si tratta anche di un'area urbana in trasformazione cosa che non è per tutti per tutte le altre aree che abbiamo illustrato fino ad adesso ma soprattutto se il vecchio piano regolatore quello del 1972 destinava l'area orientale e quello occidentale cioè le estreme propaggine dell'arco di costa ad aree industriali le vedete qui su questa tavola illustrata in rosa sono appunto le aree industriali che venivano individuate dal piano regolatore del 1972 con la variante messa in atto in questi ultimi 20 anni si è ridisegnato completamente la destinazione urbanistica dell'area quindi confermando anche se in maniera più sostenibile la destinazione industriale per l'area orientale si è stabilito il nostro piano regolatore prevede che in un ambito di trasformazione urbana insediamenti urbani integrati e addirittura una grande spiaggia cioè lo stesso che abbiamo regolato per bagnoli in realtà la variante per bagnoli è stata una variante anche all'inizio ben comunicata io ricordo 15 anni fa i cittadini capirono subito di che cosa si parlava anche perché il disegno era abbastanza esplicito ora il disegno questo è il piano urbanistico attuativo cioè una delle prove di varianti ma anche il piano urbanistico attuativo cosa andava a disegnare una grandissima spiaggia una grandissima spiaggia da Nisida fino appunto al confine territoriale con Pozzuoli a mezzo del grande portocanale che è stato poi come sapete bocciato dalla soprintendenza perché giustamente come abbiamo da sempre evidenziato interrompeva una delle tracce storiche più importanti del nostro insediamento urbano cioè la strada che collegava Napoli con Pozzuoli il portocanale così disegnato era un porto che impediva anche la fruizione continua dell'arco di costi avrebbe obbligato se mai si fosse realizzato avrebbe obbligato a chi arrivava da Nisida arrivato qui di farsi una lunga circondavigazione per poi tornare a rivedere il mare con tutto quello che avrebbe comportato l'insediamento culturale ma ora di porto non si parla più lo stesso presidente della commissione urbanistica ci ha confermato che il porto è praticamente cancellato oramai da questo piano urbanistico attuativo e quindi pare che davvero sarebbe possibile realizzare questa grande spiaggia in realtà gli usi che il territorio ha consolidato in questi 20 anni vanno in tutta altra direzione purtroppo se noi confrontiamo l'utilizzo della linea di costa di Vendesto ci accorgiamo che al di là di quelle che sono le trasformazioni pianificate abbiamo assistito ad un consolidamento di attività tra l'altro non previste dal generatore né dalla variante urbanistica del Bagnoli partiamo da Nisida un grande porto semi abusivo il porto di Manomozza occupa non solo il pontile che collega la terraferma con Nisida ma anche tutto l'entroterra questa è una foto di qualche anno fa a fronte di una concessione annuale di circa credo 600 posti barche sono state contate ogni estate qui due abusive quindi ancora una volta il 2% ha ulteriore spazio per parcheggiare le proprie barche e la spiaggia viene sottratta ai cittadini i capannoni di città della scienza come Massimo ha evidenziato la nostra non è una battaglia contro le attività pur pregiate che sono presenti sulla linea di costa sono attività che in maniera dignitosa e forse in maniera più lungimirante possono essere altrove dislocate ma non altrove altrove bastava pensare nell'entroterra cioè oltre via Coroglio tanto più che i suoli edificabili non si riescono a vendere vanno le sette le aste per cui è pensabile di slocare le attività di città della scienza queste presenti sull'area di costa ma anche le altre all'interno dell'area industriale offrendo anche un beneficio reciproco cioè avere una grande spiaggia di due chilometri e mezzo sicuramente può avere delle ricatute sul turismo delle quali sicuramente anche un'attività pregiata quale quella del museo di città della scienza qui una serie di volumi residenziali soprattutto ma che sono rimasti lì il grande bug della non realizzazione di questo piano urbanistico è la permanenza delle attività forti sulla linea di costa a seguito delle quali tutti quanti hanno tratto una ragione per poter dire anche noi rimaniamo lì quindi tutti io ribadisco il piano regolatore prevede che tutti i volumi presenti sulla linea di costa siano abbattuti quindi tutti i volumi che voi vedete oltre la strada in teoria in pratica sono destinati ad essere abbattuti per restituire questa strada però come vediamo e come vediamo anche dal confronto con quello che si è trasformato in questi 20 anni dobbiamo verificare che si sono consolidati invece questi usi che sono usi che non hanno bisogno della spiaggia il museo non ha bisogno della spiaggia le discoteche non hanno bisogno della spiaggia i concertifici non hanno bisogno questa è davvero la nostra ultima spiaggia se perdiamo questa spiaggia Napoli non avrà mai più una spiaggia da raccontare non avrà mai più come in realtà è stata una spiaggia fino agli anni 60 cioè persone anche non molto anziane ricordano che fino agli anni 60 la spiaggia di Nisida era la spiaggia dove si andava a bagnare l'arenile di Bagnoli parte del consorzio Comava insieme a tutta una serie di altri concessionari occupano a seguito di reiterate concessioni con usi anche inappropriati dicevamo la nostra spiaggia e via via oltre Piazza Bagnoli sono presenti qui non so se avete presenti come grandi edifici che si hanno a fronte via Deocleziano che sono delle scuole anche per quelle è previsto l'abbattimento cioè il piano regolatore in realtà disegna uno scenario idilliaco per cui questo referendum alla fine non chiede null'altro che di far presto e nemmeno tanto già 20 anni per realizzare finalmente quella di cui la nostra città ha bisogno fino alla pietra dove è possibile realizzare con le risorse necessarie ma in tempi limitata relativamente brevi cioè noi abbiamo calcolato che con le risorse giuste in 4-5 anni è possibile realizzare per Napoli una spiaggia di 2,5 km credo che una battaglia alla quale tutta Napoli debba potersi votare alla quale senza indugio tutti i cittadini di Napoli che sentono in qualche modo al territorio non possono sottrarsi è davvero un bisogno e stiamo disegnando se ci riusciamo un profilo per la nostra città che resterà negli anni e nei secoli a venire come è successo per esempio con la rivela di Chiaria e con la villa comunale quindi invito tutti a fare il massimo degli sforzi anche di propagare i cittadini e di propagare i cittadini è importante coinvolgere i gruppi l'utilizzazione dei singoli cittadini rispetto a questa vertenza ora Giuseppe Micciarelli andrà un po' più nello specifico della vicenda legale e poi daremo spazio agli interventi di conventi di l'azione il calcolo sui tempi di bonifica di P1 non l'abbiamo fatto noi se scaricate l'accordo di programma 4 con il bambino e vedete il cronoprogramma anche in 5 anni si prevede di fare bisogna una colmata bonificare i condali bonificare le arenine per se tutto si tratta di un preventivo ma sostanzialmente quello abbiamo sul momento quella è legge dello Stato per cui anche certi giornalisti che sul Corriere del Mezzogiorno parlano di 5 anni portando per togliere la colmata farebbero meglio prima di incominciare a parlare di chi istigati da chi sa chi a guardarsi meglio le carte in secondo luogo quello che ha detto Mauro del piano del volature guardate che la variante neanche il piano esecutivo parla di sistema dunale ripeto e la fascia che sta a monte di via Coroglio per accogliere i servizi barneari cioè dice che non ci devono essere neanche gli stabilimenti neanche le docce neanche i servizi commerciali tutto deve stare a monte di via Coroglio quindi quello che attualmente cioè come comab io vorrò a limitarmi alla parte riguardo alla procedura ma è una questione articolata potremmo anche pensare vabbè è una questione tecnica non ci riguarda penso che questi ultimi mesi sono la prova che di tecnico da solo non esiste nulla e quindi sarebbe opportuno cercare tutti insieme fare uno sforzo anche per capire questa parte che riguarda la procedura perché sono scelte politiche a maggior ragione quando ci troviamo di fronte a qualche cosa che non c'è mai stato prima e cioè il tentativo di proporre una consultazione popolare anche in città e quando noi pensiamo che sia partecipativa se vogliamo veramente sforzarci di trovare delle forme dobbiamo parlare anche credo di queste procedure ci dobbiamo aiutare perché appunto il discorso è abbastanza articolato e come diceva Rino Massimo e Mauro c'è bisogno ovviamente dello sforzo di tutti di coinvolgere ognuno di voi anche sotto questi profili quelli più che riguardano la descrizione del contenuto dei quesiti quello che riguardano la procedura di altri tipi di consultazioni perché è assolutamente fondamentale allora partiamo da questi gli scomenti esistenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini allo stato attuale previsti da statuto e regolamento vi premetto che per ammissione stessa di uno dei vicesegretari comunale mossetti effettivamente ci sono alcune discreasie tra statuto e regolamento e comunque il regolamento è fatto abbastanza con i piedi molto esplicitamente e poco tecnicamente allora quali sono gli strumenti previsti istanze e petizioni da una parte poi le proposte sono una differenza che per esempio in altri regolamenti come quello di Turin non esiste invece nel nostro c'è quindi immaginiamo che in questo caso le proposte rappresentano uno schema deliberativo perfetto che in qualche modo il consiglio comunale potrebbe adottare invece le istanze e le petizioni dovrebbero rappresentare così interpretando una semplice richiesta primo passaggio per l'istanza e le predizioni mi sembra a memoria siano 500 film e per le proposte ben 10.000 poi c'è il referendum quanti tipi di referendum conosciamo noi ne conosciamo tanti perché ovviamente è stata una delle recenti conquiste l'ultima tornata referendaria e su cui non c'è bisogno di dire però qua è un referendum un po' diverso allora innanzitutto ci può essere un referendum comunale o un referendum che riguarda le sue municipalità prima cosa seconda cosa c'è la possibilità di avere un referendum lavorativo in teoria c'è un referendum all'esito del quale scatta immediatamente l'affetto lavorativo come succede per quelli nazionali il presidente della repubblica dichiara lavorazione perché dopo l'esito del referendum se sono passati i due ruoli la legge è lavorato non è così in questo caso perché noi non abbiamo un referendum lavorativo c'è per esempio a Torino non c'è per quanto riguarda lo Stato con la montonina abbiamo un referendum consultivo che significa significa che l'esito non è un esito un esito che deve essere tra virgolette non è un esito diretto cioè dopo che c'è la votazione ha un'efficacia politica ma questa efficacia si limita a quella politica il referendum consultivo può avere un contenuto modificativo può anche essere pubblico si può anche modificarsi può anche evocare una parte però la cosa importante da ricordare è questa e poi da ultimo c'è un'altra cosa che si chiama consultazione popolare e c'è la richiesta la parte l'istanza non viene dai cittadini ma in questo caso viene dal consiglio comunale che chiede una consultazione su un atto deliberativo questo è lo schema che io vi ho dovuto dire esattamente come è previsto essenzialmente con le forzature previste da un regolamento dallo Stato ma noi cosa vogliamo fare e per quale motivo noi vogliamo ipotizzare di cominciare con una proposta con la raccolta di 10.000 per quale motivo perché l'articolo 10.5 prevede che in caso di rigetto o di non adozione della delibera c'è la possibilità da parte del comitato di richiedere su quello stesso quesito un referendum consultivo cioè noi volevamo cominciare subito a raccogliere le firme lo scopo è questo cominciare subito a raccogliere le firme in modo da presentare subito al consiglio comunale nella proposta e aspettare successivamente referendum chi decide questo è diverso rispetto al referendum nazionale per la proposta noi cominciamo subito a raccogliere le firme su un poesino invece sul referendum c'è bisogno prima delle raccolte i firme di un risponso del comitato dei garanti che aver per chiuso la parentesi lo dico e consiglio un articolo di annello che ci sta aiutando in modo dominante in questa cosa anche nella definizione delle procedure piego e altri dovreste anche votare diciamo perché ancora non è stato fatto e senza il quale noi ce lo scopriamo proprio di fare le preghi comunque il consiglio questo comitato dei garanti decide in estrema sinistra noi per quale motivo avremmo pensato questa duplice passaggio perché se noi non facessimo questo duplice passaggio e proponessimo direttamente di fatto potremmo avere per raccogliere le firme soltanto dal 5 novembre al 31 dicembre che è molto poco invece con questa prospettiva noi cerchiamo di fare due passaggi ma qua la natura tecnica è politica ci sono dei rischi perché uno dei primi rischi è che la proposta se il consiglio comunale dopo che abbiamo raccolto 10.000 firme per la proposta il consiglio comunale la adotta modificandola in questo caso tecnicamente con un'interpretazione restrittiva che già abbiamo capito essere probabilmente quella dell'orientamento dei tecnici del comune sarebbe qualificata come accettazione parziale che significa che noi non possiamo viaggiare 10.000 firme che abbiamo raccolto seconda cosa secondo rischio rischio opposto viene approvato e qua dobbiamo essere bravi noi Massimo e Mau stanno lavorando su questa cosa diciamo bene insieme a perché l'altro rischio è che consiglio comunale approva perché è scritto talmente come ordine del giorno e poco vincolante che alla fine noi abbiamo risolto nulla questo è un secondo rischio opposto terzo rischio il comitato dei garanti non permette la conversione perché dice no in questo caso non risponde per esempio ai requisiti di chiarità omogeneità ora perché diciamo queste cose perché adesso in questo momento se noi stiamo parlando di numerazione partecipativa ci dobbiamo un attimo sforzare anche a correggere gli strumenti che abbiamo anche se limitati in cui possiamo pensare che direttamente i cittadini vicino a di qualche cosa ci sarebbe bisogno si sta discutendo di una riforma del regolamento e allora forse proprio per caso adesso vincitere vado per flash perché sono alcune proposte che potremmo pensare di chiedere anche in un incontro eventualmente un assessorato con gli assessori che si sono dimostrati più disponibili ad ascoltare però noi dovremmo capire poi tecnicamente come si fanno le cose allora prima cosa istanze, petizioni e proposte in realtà sono la stessa cosa però la proposta che come diceva perfettamente massima non si tratta di una specie di legge di iniziativa popolare diciamo se vogliamo fare il riferimento nazionale il riferimento nazionale la legge di iniziativa popolare accolta 50.000 firme non è stata approvata una volta nella storia della Repubblica Italiana una legge che è nata così mai quindi si è bella ma siamo anche consapevoli di quanto cosa c'è però intanto per fare questa proposta per esempio il regolamento del Comune di Turino prende 1.500 firme che non sono 10.000 prima cosa seconda cosa sul referendum chiarezza per esempio parto sempre dal regolamento di Turino perché è importante perché è scritto un poco meglio la il regolamento previne che essendo un referendum consultivo in realtà la consultazione la propone il Consiglio Comunale sul suo atto che ha adottato e dice io voglio consultare i cittadini che deve bene a noi questo non ci basta a noi questo non sta bene noi vogliamo una proposta dei cittadini cittadini e allora per farlo dovremmo immaginare pure questo ce l'ha detto Mossetti delle forme di consultazione perché peraltro rischio che ci dicano non ci sono i soldi perché è stato quantificato l'altro 5 milioni di euro il tema di quanto può costare una consultazione è sicuramente un tema reale per l'amore del cielo allora se per esempio pensiamo a un referendum pensiamo che ci sono due referendum uno è il consultivo e l'altro è il abogativo l'abogativo non c'è e noi lo vogliamo lo stiamo mettendo se lo mettiamo perfetto adesso non c'è però è stato votato pochi giorni fa quindi è diventato l'aggiunta è vincolata alla scrittura della modifica dello statuto che poi verrà probabilmente votata noi dovremmo essere coinvolti in questa scrittura perché può essere una cosa utile visto che magari c'è l'intento di andare nello stesso sentimento di allargare gli spazi di partecipazione abbiamo fatto alcune riflessioni su alcuni punti mettiamoci il comune su questo e proprio questa la richiesta anche perché questi sono realmente sono quello che ha proposto la cosa e allora ci troviamo perfettamente su questo un'altra appunto riferendo un consultivo che si da smugli in un sondaggio perché per esempio è stata lanciata un'ifotesi di pensare di lasciare per una settimana tu mi potrai correggere se sbaglio se già viene prevista questa nell'attuale forza per una settimana aperta le consultazioni con una specie di possibilità di andare in alcune sedi deputate mette una firma sull'opzione A o sull'opzione B valutiamo tutto quello che vogliamo però non si deve trasformare nell'idea di profumo che la democrazia si fa online tramite sondaggio e che in questo modo diciamo i cittadini partire quindi poi su questo bisogna cercare in qualche modo di contemperare le esigenze della spesa pubblica per la moda del cielo che possiamo sempre andare a pagare e le esigenze per la partecipazione chiudo un altro pari di esempi su questo su cui bisogna stare attento il tema dei comitati dei garanti nominando subito l'abbiamo detto l'obbligo di una convocazione pubblica del comitato promotore su quando viene discusso il referendum quando viene discusso l'ammessibilità del referendum la possibilità di chiedere al comitato dei garanti di isprimersi subito non aspettando la scadenza del 30 settembre il tema invece per il referendum consultivo su questo che se è consultivo il quorum non ci vuole secondo noi però su questo ne parliamo perché se è consultivo non è aburativo quindi diciamo facciamo un effetto diverso e poi da ultimo potrebbe essere una cosa interessante riscrivere l'idea della consultazione popolare che c'è adesso secondo il regolamento perché potremmo anche chiedere al comune che su alcune cose su alcune scelte determinanti il comune sia autoobblighi perché questa idea che sia necessario passare per la scelta dei cittadini su alcune proposte è giusta noi non vogliamo che sia solo questa perché lo rivelo vogliamo anche noi proporre alcune cose perché magari quello che ha detto prima bene magari da qualche proposta non sarebbe uscita necessariamente così ragazzi allora noi però vogliamo anche che magari il comune sia autoobblighi su alcune questioni importanti per esempio le questioni del bilancio allora tutte queste questioni che adesso abbiamo diciamo ho tentato di accennare diciamo ci ho provato in particolare però vi ripeto sono determinanti se cerchiamo di rifletterci insieme perché adesso possiamo pensare che la democrazia partecipativa la cominciamo non a risolvere perché questo da solo non basta però cominciamo a mettere dei puntelli reali in cui non corriamo il rischio di fare un grande sforzo raccogliere migliaia di firme e poi trovarci un pugno di mosca in mano perché questo sarebbe una mazzata tremenda che sfiducerebbe noi stessi e tutti i cittadini che chiamiamo al voto e sarebbe l'ulteriore prova che alla fine tu vuoi partecipare anche democraticamente ma poi le decisioni rispondono altre idee anche questo è importante farlo diciamo tecnicamente ma infatti come diceva Giuseppe c'è una serie di questioni che lui ha ritencato minuziosamente che nel corso di questo mese dovranno essere approfondite non diciamo chiaramente da tutti i conti nel senso che ovviamente ci stiamo lavorando ma tutti quelli che hanno una competenza hanno la voglia di mettersi a discutere a discutere a lavorare per approfondire questi elementi cioè dire che siamo benvenuti sembra che insomma è un fatto così benvenuti a giocare insomma no è un dovere per tutti quanti le cose che ha detto soprattutto ha un'urgenza che c'è durante la fase di revisione del regolamento rispetto a cui noi facciamo un appello ai consiglieri in aula uno bisogna assolutamente fissare il quorum perché il quorum all'interno sia dello statuto che del regolamento è accennato ma non si sa quant'è di conseguenza noi anzi chi non è fissato questo quorum andremo alla cieca non sapremo se il 50% se lo 0% secondo noi non ci deve essere il quorum perché una volta che ci hanno richiesto 35.000 firme per il quorum basta è un referendum consultivo ma è neanche un referendum approcativo e quindi una sollecitazione in questo senso ai consiglieri una seconda riguarda la nomina del comitato dei garanti che deve esprimersi sulla missibilità del quesito se il comitato che non è stato mai nominato non viene nominato noi non possiamo dare seguito al referendum quindi bisogna immediatamente darsi a fare per nominare questo comitato terza cosa le forme di pubblicità se il comune non mette a disposizione tutta una serie di risorse perché si possa discutere comunicare con i cittadini dai sport radio televisivi sui mezzi pubblici per esempio lo regionale a comunicazione via internet ci provvediamo noi non è questo il punto ma per esempio i pannelli pubblicitari e altro via dicendo gli spazi soprattutto perché qua anche per avere uno spazio che discute uno deve scalare le torri di città il referendum si potrà pure fare nominalmente ma poi non ha una capacità quello che diciamo nel volantino di promuovere la discussione e l'informazione tra i cittadini quindi su queste tre cose i consiglieri adesso che si vota sul referendum dovrebbero essere attenti quorum nominare il comitato dei garanti garantire forme di pubblicità adeguate poi dal punto di vista pratico io condenso in alcune date il percorso abbiamo detto che noi faremo questo primo passo che è scrivere questi quattro quesiti portarli alla firma dei cittadini quindi raccogliere queste diecimila firme e andare in consiglio comunale dicendo esprimiti su questi quattro quesiti se il consiglio comunale non si esprimerà entro 90 giorni la campagna prevediamo iniziarla a maggio e finirla a giugno in questo modo noi potremo se il consiglio non si è espresso oppure ha rigettato questa proposta potremmo proseguire il percorso chiedendo che venga indietro un referendum quindi dobbiamo fare domanda a questo ben detto consiglio dei garanti perché possa validare che i quesiti sono sottoponibili al referendum che non viene dopo di che dopo una serie di passaggi possiamo cominciare raccogliere ulteriori firme per il referendum se per esempio vale per esempio che sono 20.000 firme secondo quanto dice il regolamento 10.000 le abbiamo già raccolte nella prima fase con la proposta portata in consiglio comunale dovremo raccogliere e ne altre 10.000 nel periodo che diceva luce tra il 5 novembre e gli ucini di dicembre questi tempi sono come dire ci stiamo bene però ci stiamo bene che ogni passaggio abbia poi il proprio referente per cui il comitato di garanti deve essere nominato noi dobbiamo essere ben apprezzati e passare da una fase all'altra e così devono essere scritti in maniera tale che possiamo fare questi passaggi e quindi ottenere quella dilatazione dei tempi di comunicazione e la campagna che ci permettono di giungere a maggio ad avere l'indizione del referendum e poi ad andare a votare finalmente poi c'è il problema insomma maggio 2013 quindi è un lavoro che inizia a maggio 2012 e finisce a maggio 2013 una campagna articolata di un anno che ci deve vedere impegnati a diversi livelli questo grosso modo è il lavoro che abbiamo davanti io a questo punto chiederei alle persone intervenute a parte che io sono d'accordissimo con l'impostazione di questa cosa ho un dubbio no è meglio che parli con il microfono forse sono d'accordissimo con questa diciamo iniziativa perché c'è bisogno di una spiaggia come di molti altri pubblici pubblici a Napoli non solo di una spiaggia però diciamo che mi pongo un problema che rientra nella sfera del realismo con quali risorse a parte il referendum e tutta l'azione sul campo di questa cosa che si può basare su un'azione di volontariato anche di studio e approfondimento di una serie di questioni ma poi voglio dire sicuramente fare una richiesta out out ad un ente questa cosa qui il problema è che dal punto di vista proprio del realismo è chiedersi in un momento di scarsità di risorse pubbliche come è possibile che questa cosa si realizzi lascia stare che noi pensiamo abbia un problema che poi si vedrà o un problema del comune trovare le risorse per fare questa cosa però in quanto persone che approfondiscono un argomento potrebbe essere questo non lo dico come fatto provocatorio lo dico come uno stimolo a focalizzare l'attenzione oltre che sulle questioni procedurali anche su delle questioni che possono riguardare il rispetto di risorse per realizzare un programma del genere ma anche della gestione di una spiaggia pubblica perché chiedere una spiaggia pubblica implica innanzitutto grossi risorse per che si realizzi questa cosa e questa cosa può essere diciamo approfondita insieme di un gruppo di studio di un'assemblea più larga cioè insomma un gruppo di persone che è magari deputato anche in maniera volontaristica a fare questa cosa cioè di capire come il comune di Napoli può riperire risorse attraverso anche l'utilizzo del patrimonio inutilizzato che ha insomma attraverso spostamenti è inutile che vi faccio l'elenco di tutte le cose che ho in mente io come molte altre persone idee che possono diciamo andare in questa direzione ma anche poi nella gestione di un luogo pubblico come una spiaggia perché sarebbe interessante che questa cosa desse vita anche dal punto di vista giuridico e procedurale alla formazione di nuovi soggetti giuridici che sono capaci in maniera diciamo di vivere uno spazio pubblico aperto al pubblico in un determinato modo e questa è una cosa che ovviamente non riguarda solamente la spiaggia riguarda a Luzori guarda le Dellani guarda tutta una serie di luoghi che si aspira a rendere pubblici in questa città quindi io provo per evitare di rispondere bocca risposta quindi facciamo intervenire un po' le persone chi si vuole scrivere a parlare in fronte no? Giacomo invito tutti ovviamente a essere brevi nel senso che pensiamo tanti e dobbiamo parlare tutti quindi proviamo a parlare in due o tre minuti tutti e parliamo scusa faccio una proposta ma nel caso che chi fa un intervento fa una domanda specifica soprattutto riferita per esempio all'intervento come il punto di fare l'intervento di Bucciarini non sarebbe il caso che Bucciarini in fondo su che alla fine lui se la scrive risponde mi chiamo Antonio Fidizio sono stato contattato tramite e-mail e veramente pensavo a qualcosa di altro in effetto vedo che è una cosa già preparata la prima grande spiaggia pubblica di Napoli è una bella cosa però io pensavo che era usufruire il mare i napoletani che possono usufruire del mare quindi non mi aspettavo solo di Bagnolo ma pensavo di tutto il litorale e mi spiego meglio da Santa Lucia a Mercellina il mare si può usufruire da Mercellina a Posillipo prima c'erano dei poderi sono state costruite ville parche e sono state chiuse le stradine interpoderali abusivamente una volta il comune di Napoli aveva istituito l'assessorato del mare che stava studiando queste cose c'era una miraglia poi l'assessorato del mare non so è saltato è saltata la vecchia e non se ne parla più perché poi usufruire il mare significa veramente diventare una vera città turistica significa veramente non convogliare un milione di persone tutti a Bagnone insomma va bene tutto però io pensavo che era una cosa più ampia da costituire da come mi è stato scritto tramite email mentre vedo che voi già avevate preparato tutto ma sta bene per quello che avete preparato però non era il mio obiettivo perché sono arrivato qua mi scuso è scritto Giannello Carlo e poi Giacomo Bagnone io ringrazio l'assise di Palazzo Marigliano l'assise di Bagnoli che hanno organizzato questa iniziativa Bagnoli mi sento Carlo Giannello in questo momento svolgo la funzione di presidente della commissione urbanistica vengo dall'esperienza dell'assise di Palazzo Marigliano che ho contribuito ad animare la sua riapertura nel 2004 contro la prima di intenzione dell'arco quindi come dire mi sento veramente pienamente a casa in questo momento perché la battaglia che viene proposta oggi è una delle battaglie fondamentali dell'assise di Palazzo Marigliano dell'assise di Bagnoli il recupero della spiaggia pubblica a Coroglio da Nisida fino al confine di Pozzuoli ed è anche un obiettivo del piano regolatore generale chiaramente il piano regolatore generale rispetto a questo obiettivo aveva due criticità uno era un accordo di programma ed è ancora un accordo di programma di erogatorio al piano stesso stipulato due anni dopo la conclusione anzi un anno dopo l'approvazione del piano che permette a città della scienza di continuare ad avere i capannoni su quella che dovrebbe essere la spiaggia ci sono delle margini che hanno fatto vedere e un altro era la localizzazione del porto che quindi interrompeva la spiaggia e che fu una grande ferita nell'ambientalismo italiano la previsione di questo porto perché c'era una buona parte dell'ambientalismo italiano nel 96 napoletano scusate che nel 96 riteneva che questo porto non si dovesse prevedere a Baglione perché Baglione non aveva una vocazione portuale ma aveva una vocazione balneare e come si sa o c'è portualità o c'è balneabilità tanto è vero che fu il piano regolatore generale per risolvere la contraddizione NIS collocò il porto all'estremità della spiaggia quindi in parallelo con Vieto Greziano facendolo molto piccolo per ospitare soltanto barche a vela perché è chiaro che poi il transito delle barche a motore avrebbe impedito o ostacolato o comunque disturbato in maniera rilevante la portualità oggi ci troviamo con una nuova giunta che ha la balneabilità e il recupero della spiaggia come dire fra i suoi must amministrativi e la questione di essere portocanale non c'è più perché è stato cancellato una conferenza dei servizi che prevedere un porto era il portocanale che si allungava cioè che usciva dal canale ed arrivava vicino al pontile quindi lasciando poi il problema risolvendo il problema della mobilità a cui si faceva riferimento il fatto è che quella conferenza dei servizi è stata poi annullata dal giudice amministrativo perché era stato fatto un papocchio in quella conferenza dei servizi quindi dal punto di vista normativo la conferenza dei servizi ha cancellato il portocanale il consiglio di stato ha cancellato il porto previsto la conferenza dei servizi conclusione il porto non c'è almeno allo stato attuale massimo di dato come dire sorrigere perché è un suo auspicio come è un auspicio di tantissime persone che sono qui dentro concludo dicendo questo io personalmente mi sono impegnato già moltissimo su bagnoli ho fatto molte attività proprio per capire la situazione di bagnoli è una situazione disastrosa dal punto di vista economico-gestionale della società faceva bene la persona intervenuta prima a dire poi ci sono anche questioni economiche come si devono recuperare i soldi da questo punto di vista per la rimozione della colmata da questo punto di vista potrei comunque parzialmente tranquillizzare perché c'è una proposta economica per la rimozione della colmata che è parzialmente già disponibile e dovrebbe essere sufficiente per la rimozione di rimozione della colmata l'altra parte la proposta economica essendo bagnoli un sito interesse nazionale è un dovere del ministero dell'ambiente quindi il ministero dell'ambiente che nel piano di politica nazionale deve stanziare dei soldi per completare la politica di bagnoli noi come città di Napoli dovremmo fare pressione sul ministero l'accordo di programma è un accordo in cui l'onere economico lo mette il ministero nell'accordo di programma c'è appunto il ministero che ha già stanziato una prima tranche di soldi e deve stanziare una seconda tranche di soldi è chiaro che poi la decisione di effettuare lo stanziamento è anche una decisione politica perché ci sono la capacità di fare e far capire quali sono i vantaggi sociali il capitale sociale che è una spiaggia in una città dove i cittadini non hanno la possibilità praticamente di andare al mare perché le poche spiagge che ci stanno i pochi appunti che ci sono sono privatizzati quali sarebbero il grande vantaggio sociale che deriverebbe da questa scelta e quindi avere la proposta finanziaria per rimuovere la formata concludo dicendo che oltre a me in questa sala ci sono Carmine Attanasio che è un presidente della commissione ambiente il generale sposo che è il presidente della commissione sport e siamo assolutamente come dire disponibili a occuparci delle questioni giuridiche che invece ho sollevato prima e a dare la disponibilità per la realizzazione dell'obiettivo e per la realizzazione anche di questo procedurale che un'inter di democrazia è molto importante io invito ancora tutti a essere bene ad andare subito all'otto Giacomo Bonomo voleva intervenire scusate però non è che ti siedi e quindi parli molto a lungo no no voi sapete che io non sono il tipo che mi parla di questo quindi se ne accoggeranno pure i presenti allora dopo aver ascoltato Giuseppe io non mi aspettavo che Giuseppe facesse una relazione così critica più vicino alla bocca non mi aspettavo sentite va bene adesso non mi aspettavo che Giuseppe facesse una relazione così critica nei confronti della procedura per andare a riprende e soprattutto che appunto i presenti avessero la sensazione che è una strada francamente da abbandonare quella dei riprendi soprattutto tenendo presente quella che è la realtà di oggi dei referendum allora anni fa quando la regione Campania ha rivisto la sua regolamentazione per il referendum ha deciso che i referendum abrogativi possono essere soltanto rispetto a delle leggi io ho fatto presente è uscito proprio sulla Stata che questo era incostituzionale perché il nostro la Costituzione prevede che i referendum possono essere abrogativi non solo per leggi ma anche per provvedimenti amministrativi non se ne è fatto bene quindi allora dando per scontare che la cosiddetta Casta non ha alcun interesse a concedere ai cittadini il diritto di partecipare ai processi decisionali così come previsto dalla Convenzione di Orus ma non so quanti di voi se la sono ma hanno trovato mai il tempo di leggersi la Convenzione di Orus è del 1998 che è stata ratificata dal Parlamento Italiano con il 108 del 2001 allora io vorrei volentieri soltanto poche righe che sono contenuti in un libro interessante è un libro il cui titolo copertina verde il titolo è impatto ambientale valutazione strategica che è stato stampato e diffuso nel 2008 da sole 24 ore allora io non so quanti di voi leggono sole 24 ore ogni giorno pigliate la buona abitudine di leggerlo perché a dimostrazione di che cosa significa sapere prima degli altri e più degli altri gli industriali hanno questo loro organo di informazione e contiene certe volte il testo delle leggi prima che vengono pubblicati sulla cazzetta ufficiale ed allora a pagina 236 di questo libro c'è scritto il decreto legislativo 4 del 2008 successivamente inserisce nel processo tecnico-amministrativo della via della PAS una serie di dispositivi in ottemperanza alle normative sopraccidate al fine di migliorare e rafforzare la cosiddetta fase di consultazione del pubblico che fino ad oggi risulta essere ancora uno degli aspetti più delicati e critici del procedimento in altri termini l'anello debole del processo decisionale infatti nonostante il diritto ad una partecipazione informata dei cittadini ai processi decisionali sia promosso disciplinato da parecchi anni sia dalla normativa comunitaria e quindi la convenzione di Oros che nazionale e quindi la legge che era ratificato spesso le modalità di coinvolgimento del pubblico nelle questioni ambientali non sono considerate nella giusta bisogno di conseguenza ecco il punto importante di conseguenza i principi di democrazia ambientale auspicati dal dibattito internazionale sono spesso disattesi determinando una scarsa fiducia negli strumenti di gestione dell'ambiente come le procedure di via e basta ricordiamo a questo proposito che la convenzione di Oros era stata definita dal segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan come virgolette il più importante esempio di democrazia ambientale e di attuazione del principio 10 della dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo chiuso in virgolette essa è un nuovo modello di tentato internazionale in cui i diritti umani e la tutela ambientale trovano affermazione e sostegno e cito allora considerando che questa è la realtà considerando tutte le beneverenze e le lacune dello statuto e del regolamento che riguarda il detenente del comune di Napoli imbarcarsi nella corte di firme che prende contando poi su dei risultati così scarsi penso che sia proprio una cosa negativa vorrei ricordare ai presenti che non lo sapessero che la regione Campania aveva l'obbligo per legge dello Stato di approvare le cosiddette linee guida sull'uso del demanio marittimo le linee guida sono una cosa indispensabile perché in base alle linee guida poi i comuni costieri della Campania avrebbero dovuto e potuto varare i cosiddetti piani di spiagge cioè decidere noi abbiamo tanti chilometri o tanti metri di spiagge centinaia di metri di spiagge tanto noi vogliamo destinarlo a darlo in concessione e tanti di spiagge ma il nostro proposto non è questo lo so ma io sto dicendo tenete presente di questa realtà perché conoscendo questa realtà voi vedete che con la cale di politica civile è soltanto una pezzina di tempo scusate l'altra parte è stato lo stesso tutti di critica le hai fatte le hai fatte anche pesante d'accordo io mi auguro che mi risponderà ed allora tenendo presente questa realtà perché allora io suggerisco ecco come sempre vado alle cose cose perché invece il movimento in una pausa di riflessione non prende una pausa di riflessione valuta tutti gli poveri che Giuseppe ti ha fatto conoscere e invece parte con una campagna di scavita di pressione di imposizione di campagna forte pesante pretendendo che la regione campana adotti al più presto le cosiddette linee guida sull'uso del demanio marittimo perché questo allora condannerebbe e riuscirebbe a bloccare anche quell'altro progetto che c'è di consentire a chi ha già una concessione sulla costa di utilizzare tutto l'anno e allora potrebbero dire se venissi approvati prima questa questa delibera questo atto questa legge questa norma per cui chi ha già una concessione sulla costiera può utilizzarla tutto l'anno naturalmente facendo un locale notturno alla sera e nei mesi non bagnabili poi successivamente se ci fossero se le linee guida venissero dopo si potrebbe dire no ma oramai noi ci hanno dato la concessione dal tutto l'anno quindi si tratta soltanto di valutare queste cose soprattutto tenendo presente anche il decisionismo del nostro sindaco Emagistis il quale sindaco per esempio ha fatto la scelta dell'America Stato propriamente della Wiccan Cup da solo l'ha fatta da solo avrebbe dovuto perché è una scelta che ha delle conseguenze sul territorio nel rispetto di Orus avrebbe dovuto essere discusa con i cittadini autonomamente personale adesso adesso ha fatto un'altra scelta personale cioè che al circolo del tennis potrebbe ospitare anche la Coppa Davis del tennis ma insomma è possibile andare avanti in questo po' quindi occorre è necessario la coscienza dei propri per farsi poi per difendere per imporre rispetto a questo io perciò mi invito sempre a leggere la convenzione di Orus soprattutto all'articolo 6 dove vedete che lo strumento per far partecipare i cittadini ai processi di un'articolo sono le cosiddette consienze pubbliche in inglese che significa la stessa o stessa tipo di un'articolo che si usa in tribunale cioè una parte fa una domanda l'altra e anche se la domanda è scomoda o molto scomoda l'altra parte è consente a rispondere invece il regolamento per le cosiddette consulte che è stato varato anche da questa amministrazione è una presa in giro per quanto riguarda la vera partecipazione cittadini ad ogni modo la cosa grandissima anche è l'intervista che è stata rilasciata ad Ambrogio a Omero Ambrodi ex magistrato io ricordo quando il comitato giuridico lo incontravo lì non veniva la parità di Tio Temo e mi si è dispiaciuto molto dispiaciuto che lui abbia accettato la presidenza della Baglioli Futura secondo le cose che ha detto in questo intervista vi ho lasciato accogliere per due giorni sono capissime perché alla fine lui suggerisce addirittura che sulla questione di Paglioli e sulla verenosità della colmata che è un espediente per poi poter dire ma è troppo venenosa è troppo costosa di nuovo però lasciamolo là dove stanno è chiusa a parete allora Omero Ambrodi suggerisce un dibattito pubblico con esperti internazionali dobbiamo dire decisamente no perché noi sappiamo soprattutto quando vengono esperti a livello internazionale ognuno dice la sua verità non c'è nessun momento di confronto con contraddittoria quindi sperimentalmente desidero avere una risposta non so se me la puoi dare adesso sarei contento sarei contento anche per esempio grazie Alberto Calabrese dopo interrompiamo un attimo cerchiamo non di rispondere insomma ma di interlocuire a tutti i cinque più o meno preghiamo tutti quanti di essere sono bellissimo perché giusto sono recitato a intervenire perché mi fa piacere che il cittadino che qua sta in terza fina ha detto le aspettative non è o limitate semplicemente a Bagnoli io sono nato a Mercedina e fra l'altro un forte legame sentimentale quindi anche proprio emotivo molto molto forte con la spiaggia con il porticciolo di Mercedina allora perché io non sarei nemmeno intervenuto perché secondo me è il meditoio e io sono molto molto interessato a capire i dettagli di questa proposta della grande spiaggia di Bagnoli che mi sembra veramente strategicamente politicamente molto molto importante però visto che ci torniamo a parlare io credo che non sia neanche giusto ma lo dico anche perché con l'introduzione che hai fatto tartare reale un poco ai sogni a questa voglia di beni comuni che noi napoletani diciamo vogliamo cioè finalmente con questa nuova giunta che abbiamo eletto con questo nuovo consiglio scusatemi che abbiamo eletto e che praticamente di cui riguarda anche Giannello quale esponente eccetera c'è tante speranze cioè voglio dire perché fare reale al sogno per esempio la Men's Cup d'accordo possiamo discutere sull'opportunità o no però è stato detto qualcosa solamente giusto sfruttiamo questa occasione di questi imponenti lavori per creare un processo di rinaturalizzazione del litorale di Mercedina fino a Santa Lucia che è sacro santo perché io non ci sto a dire che via Caracciolo è lo scenario che noi viviamo da decenni di angoscia metropolitana del fine settimana salute estivi di quello che è quello schifo di via Caracciolo globalizzata diciamo diventata angoscia metropolitana che è che non ci credo perché non ci ho mai creduto secondo me è giusto non trattare le alle sogni che la spiaggia come era tutti quanti avremmo visto le illustrazioni della stazione maittima con la spiaggia della villa comunale l'acquario volgalmente che arriva la spiaggia che arriva dalla villa comunale al mare secondo me è una cosa bellissima pensare che sia ancora possibile e questo volevo dire ringrazio questa proposta e aiuterò a portarla avanti di questo referendum però senza trattare i sogni anche tutto il resto del ritorale di rendere una spiaggia pubblica da San Giovanni a Teduccio fino a Miserio ma ovviamente nessuno è realista diciamo di soltanto per sé o per gli altri secondo me e intende che per noi va benissimo possiamo mettere tutto quanto a spiaggia pubblica dal confine della campagna il problema è che questa iniziativa ha un fine limitato che è quello di porre un'ipoteca non negativa ma positiva pubblica su una spiaggia che sarà interessata da una revisione del piano regolatore e questa revisione noi vorremmo perché la manderà avanti la giunta che fosse influenzata da quelle che sono le opinioni della Genova quindi il punto è questo il piano regolatore verrà visto noi dobbiamo cercare di far sì che questa revisione va alla direzione dei nostri e quindi rispondo anche insomma all'intervento ma faremo con le direzze pubbliche non mi voglio dire la direzione non mi piace non ti ho minimamente interrotto ma hai fatto un tuo intervento poi magari ti riscrivi ma posso dire una cosa di due secondi solo ti volevo rispondere no 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 scusa una cosa di due secondi e non parlo più città della scienza avete detto che c'è una concessione di 70 anni per togliere la dirà farei altri 70 anni di causa allora se noi se ti hanno la concessione firmata dall'autorità portuale non dipende un funzionario dall'autorità portuale tu fai altri 50 anni di causa per mandarti non è così non è la concessione non è la concessione ma lo devo è un accordo di programma e se è un altro caso attuale non è un problema fondamentale allora guardiamoci un attimo negli occhi noi siamo in una situazione che è grave di fronte a queste cose noi di fronte a la situazione attuale è difficile che ci mettiamo a cercare diciamo così gli artifici per poter amparare le cose di guerra di guerra economica ma di guerra a noi servono sindaci consigliere comunale forze politiche di guerra che quindi hanno la capacità perché lo hanno pure detto in campagna elettorale di fare delle cose che un sindaco normale diciamo non farebbe in una situazione più pacifica e questo riguarda principalmente la questione delle risorse per questo accennando alla rimozione della colmata ribadisco che il problema non è andare a mendicare qualcosa ma andare a ribadire che l'ente pubblico che ha inquinato e che ha degli obblighi giuridici oltre che sociali rimuove e questo da parte c'è il rincorso lo dico ai consiglieri comunali da decenni un contenzioso legale con l'exit al sider perché a spese sue deve essere rimossa la colmata in quanto concessione quindi qui non si tratta di essere per tutto gli avisti e sognatori si tratta di far valere le leggi perché le leggi quanto sembra valgono in alcuni casi in altri si passano come diceva dopo la stessa cosa la stessa cosa una spiaggia pubblica non è una cosa che richiede miliardi di miliardi di euro di investimenti ma una spiaggia pubblica richiede un minimo di attrezzatura anche lungo 2,9 per mezzo e la possibilità di avere come dire una libertà di transito per le macchine perché la pulizia quando viene organizzata per centinaia di metri non per lo spazietto di una concessione privata non la fanno i ragazzi pagati quattro soldi con i reti si fa con le macchine si fa in maniera economica si fa rapidamente noi leviamoci dalla testa che dobbiamo continuare a fare i discorsi eh ma il comune di Napoli quando mai la può gestire una spiaggia pubblica perché a questo punto chiudiamo tutto quanto perché gestire questo edificio è molto più complicato di gestire una spiaggia pubblica quindi leviamoci anche queste mitologie negative che ci hanno messo a dusto noi vogliamo un'amministrazione pubblica che funzioni e che faccia non cose impossibili ma quello che fanno i nostri comuni italiani non bisogna neanche andarsi a vedere il comune europeo che fa più fighetto benissimo allora dobbiamo pretendere che avvenga questo perché altrimenti su tutti gli aspetti negativi della nostra città mettiamoci una croce chi se vuole andare chi vuole andare da altra parte ecc questo è quello che dobbiamo pretendere come minimo per questo noi diciamo che non bisogna andare ad un referendum che dice da qua a qua però poi siamo pronti anche a contrattare un 25% ecc no tutto quanto perché è il minimo è la mobilitazione per questo noi non andiamo a proposte con le campagne stampa ecc va bene il problema fondamentale è che noi dobbiamo far sì che la gente si smuova su un obiettivo di questo tipo quindi è più importante in qualche maniera il lavoro politico che si farà nell'agitare queste questioni città all'interno della campagna da qui a un anno piuttosto che il risultato in se stesso il risultato viene dopo in qualche misura è la forza politica che si riuscirà a muore su questo così come è stata la forza politica che è stata smossa sull'acqua perché abbiamo visto che appena i referendum sull'acqua sono passati immediatamente ci sono stati i giuristi pagati dalle forze politiche amministrative che hanno cominciato a dire no ma guardate questo così eccetera stanno arrivando per annullare il referendum qualunque referendum in qualche misura può essere aggirato allora il problema è i soggetti sociali che si sono mossi e organizzati durante la campagna hanno la forza di fare pressione perché il risultato non viene annullato in sede di un tribunale in sede di un consiglio comunale o altro e allora è questo l'elemento principale ed è su questo che dobbiamo battere non dobbiamo andare a chiedere la piccola cosa qui o la piccola cosa l'altra purtroppo noi siamo in una situazione o la speriamo che ho se ci impegniamo per questo oppure è proprio inubile che ci mettiamo a fare la musica e infatti tu vuoi la cosa scusa Massimo tu hai detto che allora la differenza di questo ricordo di oggi rispetto agli altri seduti alla partecipazione democratica del Comune dove sta? tu hai detto che il magistrato in campagna rettonata disse che avrebbe fatto delle scelte personali non è questa io che ho seguito tutti gli incontri di De Magistris con il pubblico De Magistris invece nella campagna elettorale si dichiarò a favore della partecipazione democratica ed il penultimo giorno prima delle elezioni disse sono anche a favore del bilancio partecipativo promesse che poi non ha mantenuto di De Magistris stiamo parlando di una situazione specifica per cui do la parola un attimo a Giuseppe per quanto riguarda le interpretative che tu stessi avrei tosse sulla rispettiva del caso ma io sono contento di averci sorpreso e evidentemente sono riuscito diciamo magari un po' a cercare di mettere dei punti ma il problema non è che qua si è contro l'istituto del referendum o gli istituti che ci sono il problema noi pensiamo che la convenzione partecipativa già ce l'abbiamo e il problema è solo farla cioè noi pensiamo che per esempio la convenzione di OVUS sia già perfetta in sé noi pensiamo che il debuff click come ci sta in Francia sulle scelte che riguardano l'ordine ambientale sia lo strumento perfetto allora qual è il problema non è così il problema il problema è che questi strumenti possono andare nella direzione giusta la direzione che vogliamo noi ma questa è partecipazione è consultazione ne vogliamo la decisione dei cittadini che è un'altra cosa il punto è questo no io non ho detto che non contano niente spero che gli altri abbiano capito diciamo evidentemente però sono limite mio consentimi la trovera è difficile dopo ne parliamo lunga io ho trovato una serie di elementi critici ma in questa sala spero che altre persone ne possano trovare altrettante che sono elementi che pongono innanzitutto una serie un dei sei ostacoli alla possibilità dei cittadini di decidere se li rimuoviamo e noi stiamo discutendo questo perciò tutti insieme all'altra voce per capirci insieme perché il punto è questo è ovvio che quando tu senti qualcuno e lo senti nel percorso è ovvio non è che tutto è già deciso però in qualche modo se dobbiamo istruire una chiacchierata due cose le dobbiamo mettere diciamo così come punti su cui poi discutere perché se no diciamo ovviamente è diventato ma anche se non c'erano le basi difficili su cui discutere ma io ti dico soltanto questo io penso che la democrazia partecipativa non sia realizzata è una grande sfida che non riguarda soltanto questo istituto perché la persona che ha parlato per prima ha toccato un altro punto centrale che è quella della gestione del bene comune dopo che l'abbiamo realizzato perché anche questa è una grande cosa fondamentale perché se no noi creiamo altri comuni carrozzoni come siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni e noi non vogliamo che per il bene comune vada in mano ad un carrozzone allora poi su questo ma il punto è che non è ancora realizzato dobbiamo sollevare quei e altri punti di criticità perché ci sono perché ripeto la stessa convenzione di AUS non è vincolante dopo che convolvi i pubblici oggetti e ma ci fate notare da questa convenzione AUS dopo che le convolvi l'importante è che li coinvolvi li fai sfogare i cittadini invece a noi non ci basta e poi non mi decidono no ma mi decidono no a me non mi basta ma decidete no a chi lo è noi non la dobbiamo rompere ci sono altri siti a parlare io volevo semplicemente ritornare se diceva Mergellina Posilli con le altre spiagge sicuramente a parte non a caso noi abbiamo scritto la prima grande spiaggia pubblica di Napoli e poi tenete presente una cosa l'area di Bagnoli-Cologno è un'area di trasformazione urbana è lì che si può operare la trasformazione urbana in funzione positiva rispetto al bene pubblico e all'utilizzo territoriale questo sarà un volano affinché Napoli possa avere altre spiagge però se noi oggi stessimo qui a parlare solamente della spiaggia che a caso ora ci ritroviamo della quale ci dobbiamo dover parlare non noi diciamo però è l'America K a Mergellina è un'occasione casuale nel senso se non si fosse stata si starebbe ora a parlare della spiaggia Bagnoli però se oggi stessimo qui a parlare della spiaggia a Mergellina dimenticheremmo di parlare di un'area importantissima in trasformazione e sulla quale rispetto alla quale si va a ridisegnare il profilo complessivo di questa città quindi sicuramente benvengano altre spiagge ma noi qui stiamo a proporre un referendum appunto una mobilitazione popolare appunto una decisione collettiva dei cittadini che chiedono di poter partecipare affinché si realizzi a Napoli la prima grande spiaggia pubblica è scritto a parlare Carlo di Annello Antonio D'Apunto scusatemi Antonio D'Apunto più vicino più vicino di tenere il microfono vicino a voi ma io voglio partire da questo cioè in un momento in cui lo Stato italiano molti o più di per gli scogli sta portando tutto sulla privatizzazione cioè oggi si parla nel privato addirittura diciamo con operazioni di una scorcizia in mano come quella del fareggio del bilancio delle operazioni veramente che nessun governo la battaglia pubblica di Bagnola assuma una valenza eccezionale noi dobbiamo partire da questo dato fondamentale cioè di lanciare la funzione del pubblico che è oggi messa sotto accusi in maniera violenta questo vale per tutti i campi cioè non c'è un campo in cui il pubblico non ha un valore perché questa battaglia perciò sono rinunce in questo caso una valenza che va sopra diciamo del contenuto del recupero della schiaccia a una valenza generale che parla che può parlare all'intero paese di come la volontà popolare dei cittadini sia diciamo casso per recuperare un grande ruolo di quello che è un bene comune un bene pubblico quindi è centrale sotto questo aspetto e diventa effettivamente io credo che su Bagnoli va fatto un discorso più complessivo da tempo lo sto dicendo Bagnoli è un'occasione unica per la città che però fino ad oggi non ha avuto assolutamente il cammino che doveva avere io credo che Bagnoli possa diventare l'area che è stata dimessa il grande giardino del Mediterraneo l'ho sempre detto e l'ho scritto più volte cioè così come quando si riperò l'area della villa diciamo in Borbone fece con tutti i limiti scusatando ma finando il Borbone però una mente diciamo illuminata i più illustri sono personalità di quel tempo i bambitelli diciamo i più grandi giardinelli è costruita la villa diciamo del comunale oggi noi a Bagnola abbiamo ancora proprio per la incapacità di chi è stato fino ad oggi abbiamo ancora io sono molto d'accordo con quello che mi diceva un minuto fa il carbine attanato nell'orecchio cioè come si vuole recuperare il Bagnolo quando si vogliono fare dei grattacieli in quella zona allora è evidente che noi dobbiamo riaprire una battaglia centrale una battaglia centrale per costruire il più grande parco diciamo del Mediterraneo cioè Bagnolo che si ha con il suo respiro insomma che guarda avanti e quindi io sono d'accordo per aprire certo partendo da quelle che diceva Massimo diciamo 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 del Sipris nella linea di costa la città con la cante dell'azione ovviamente del foro e del vittimo ma anche con un grande qui dal basso un disegno di una cantearia diciamo che io chiamo il giardino del Mediterraneo che recupera la gran parte insomma dell'area che è stata dismessa lasciando alla speculazione di inizio solo una parte la gran parte del giardino di quale si può fare la fa sotto la montagna dove non si può costruire quindi io credo che questa battaglia va invecciata io credo che alla battaglia diciamo della spiaggia noi veniamo da un'esperienza molto bella e molto positiva la legge di iniziativa popolare diciamo sulla cultura e diffusione dell'energia solare in campagna partito un po' in sordina è una legge che sta cogliendo insomma sta recuperando diciamo come dire tante e tante personalità tante e tanti come dire forze sociali di tutta la natura perché questo? perché gli abbiamo dato diciamo un carattere come dire di valore culturale diciamo di farla sentire proprio di far sentire questa battaglia è una battaglia che va diciamo come dire una battaglia centrale che serve a dare un indirizzo io credo quindi che a di là diciamo di ogni contenuto tecnico pur importante io credo che bisogna fare in modo da creare un grande entusiasmo su questa battaglia un entusiasmo che trascina un entusiasmo che coinvolge a pie non si tratta solo di raccogliere la firma e di far firmare ma di far capire il valore insomma della battaglia che si fa questo è centrale perché altrimenti 10.000 firme sono molte noi abbiamo raccogliato 20.000 di firme insomma questa è una battaglia unica in 50 comuni della regione e poi si è cresciuto l'entusiasmo e oggi se dovessimo raccogliere le firme sulla legge probabilmente ha un valore molto grande io punterei molto diciamo anche a quei voci sì io sono stato critico e sono tanti critico su tanti errori che sono stati fatti però io conterei molto insomma sulla visita comunale come un possibile questa battaglia possiamo vedere immediatamente come contro e quindi io mi renderei molto di questi film puntando la presenza di tante persone che sono state tante sono state una year che ancora oggi è stato come dire il protagonista di tante battaglie ambientaliste di tante battaglie di società civile quindi oggi è il protagonista anche se sta diciamo nelle istituzioni non è un avversario voglio dire e quindi nell'integlio comunale punterei molto sulla proposta 10 mila che sono non solo 10 mila devono essere almeno 12 di 10 mila secondo le esperienze che noi abbiamo però 10 mila perché questo è un grandissimo valore un grandissimo risultato io le cose ricerciate no ovviamente il piano dispiace il piano dispiace ha una grande lingua la parte più bella spanneabile più funzionale la spiaggia pubblica per cui rimane questi piccoli spazi questi piccoli detti quindi anche qui si tratta di aprire una grande battaglia perché tutte le spazi ma dove sta scritta con bene comune come la spiaggia come il mare deve essere privato è una cosa che io non posso non ho mai sopportato e credo quindi che questa battaglia sia una battaglia fondamentale di grande valore non solo locale ma di grande valore nazionale e su questo punto noi dobbiamo avere la capacità di coinforzare veramente l'intera città di Napoli forse che mai no ancora sia le vittime di vita della ritorna sia le spiagge dei politici